Ok, piccolo podcast che nessuno ha chiesto e perché lo faccio? No scherzo dai, mettiamo la scusa Vabbè dai, ha grandissima richiesta insomma, si fa per dire, cioè me lo sono chiesto io ecco Quindi, Java si è chiesto, facciamo un podcast e non è un podcast, in realtà è tipo una specie che non ci vuoi di scrivere, va bene Quindi è lo sfogo che condivido, voi probabilmente non condividerete la mia idea, se lo ascoltate tutto, ovviamente Vabbè, ci sta, ci sta, allora, discorso importantissimo, importante Ecco, si può iniziare se non con la minigonna, ecco, cioè diciamo che devo essere chiaro e tondo Bisogna che qui la gente mi vuole asfaltare adesso, però vabbè, io dico la mia E veramente, oh, se me lo segnalate di ok, perché veramente Purtroppo Instagram, YouTube, questi ciò che qua funzionano che tu dici una tua idea e te la banno Basta segnalate la banno, perché la gente non c'è voglia di avere un confronto E di dire, no, dai, va bene, dai Io la penso diversamente, magari parlo nei direct, magari partecipo insieme a lui un video E dico la mia, no, la gente segnala perché è un figlio di puttana E quindi vogliono avere la loro ragione, tanto a loro che gli costa, il mondo gira così La loro ragione è giusta, purtroppo le persone dicono così E quindi vanno a segnalare i video delle minoranze, ovvero io, che la penso diversamente Secondo me è un po' una mezza rosicata la loro, va bene Quindi vi chiedo di non segnalare, ti porco E allora, partiamo dal presupposto che, vabbè, minigonna in generale In realtà, abbigliamento da puttana, ok? Ma diciamo che ho rettondo Ma anche verso maschile, per chi si mette Come cazzo si chiama? Magari al mare Io mi metto i costume, ma che sono tipo pantaloncini, va bene Quindi non mi si vede né culo né cazzo Ma quelli che si mettono, ad esempio Vabbè, ora parlo di maschi in realtà perché almeno mi pare un po' il culo E non sembrano un maschilista di merda Ma quelli che si mettono le cazzola di mutande strette, costume comunque Cioè, com'è che funziona? Cioè, nel senso, bravo, c'è il pacco, ti diventa grosso quando vedi gli altri in costume Ma che c'è? A me viene da pensare questo Perché sono anche scomodi, perché adesso, dubbio della verità Non sono neanche d'accordo per la piscina, però non l'ho fatto Quindi non posso sapere se sono più comodi o no Ma al mare Come cazzo fai a dire che sono più comodi Mettersi le mutandine? Cioè, dio porco E vabbè, tralasciando questo Vorrei dire anche per Per le donne Che, vabbè, maggior parte dei maschi Mettono appunto il costume con i pantaloncini E quindi, vabbè, siamo una maggioranza La minoranza dei maschi, quelli che mettono le mutandine Ma perché il 90 e passa Sicuramente più del 90, c'è sicuro Si mettono le mutande che si vede il culo Non sono delle mutande, sono del cazzo di filo interdentale Cioè, nel senso È ovvio che non vi prendo seriamente diritti Quello che vuoi, altro, lavoro Mi fido più di un maschio È più serio, ok? Nonostante c'è la sua comicità Ad esempio il prof di sostegno Io mi sono trovato stracomodo con un maschio Ci capivamo di più Ma lo stesso vale anche per le ragazze Diciamo DSA Che hanno un prof Beh, è molto meglio avere un prof maschio L'ho avuto da prove certe Da gente che me l'ha raccontato Eppure perché poi, comunque Vabbè, ora parlo di gente vecchia Ma che cazzo me ne frega Però, insomma, il discorso è quello Che Non riesco a prendere seriamente questa cosa Perché Porca puttana Vi si vede il culo Più la figa Poi se siete stati In un certo momento Vi si vede che Vi entra il costume dentro la figa Cioè Quindi Si vede Anche se è piatta Si vede Va bene Cioè Detto in breve Perché C'avete un aspirapolvere di un cane E Mi dà un botto fastidio Perché nel senso Vabbè Io che sono fidanzato Non c'ho problemi Gli altri Proprio non mi interessa Mi si può avvicinare una tutta nuda Che Dio canna Mando a fanculo E basta Però nel senso Per la gente normale È bello Perché vanno al mare La prima cosa che fanno Qual è Guardare le donne in costume Magari guardare anche le animatrici No Le animatrici sono Abbastanza coperte Dicevamo Ok Per quello che conosco io Però insomma Vi tratto come vi mostrate L'aspetto Quando dicono L'abito non fa il monaco Ma a fine A un certo punto Si usa Tramite i barboni Che sono delle brave persone Ma sembra dei terroristi Si usa in questi casi Ma Se uno ha la vita a posto In quel caso No Se ti vesti da troia Sei una troia Cioè capisci Non so se riesco a collegarmi Con il discorso Oppure con il reggiseno Che si vedono Con quelle bocce Eh no Ma non si vede il capezzolo Eh ma si vedono le bocce Eh che cazzo E molti di voi gli diranno Eh ma non è giusto Che voi maschi Vogliono stare senza maglietta al mare Va bene Va bene Toglietevi il reggiseno Ma perché non lo fate Oppure Quelli che sono andate a protestare Noi maschi non ci lamentiamo Ripeto Io non c'ho problemi Perché sono fidanzato E quindi potete fare il cazzo che volete Ma per le altre persone Vi guardano Vi guardano Inutile che ci sono quel gruppo di femmine Che sono contro i maschi E dicono Anch'io voglio Togli il mio reggiseno E stare con le tette nude Ripeto Non è un problema dei maschi questo Perché noi non ci abbiamo problemi Soltanto le donne Che c'hanno problemi Con questo tipo di femminismo Qua E spiego anche il motivo Perché è una parte intima del corpo Purtroppo Il vostro cervello Dice che è una parte intima del corpo Bisogna rispettare la maggioranza In questo caso In questo caso ovviamente Perché dio porco Se voi andate in giro Con le tette di fuori A noi non ci cambia nulla Anzi ad alcuni Gli fa soltanto che piacere Ai maschi Ma le donne Lo dicono Eh ma mi sento Poi un imbarazzo Vedere Quella con le tette di fuori E' come se all'improvviso Salvo spiagge per nudisti In Spagna Insomma a quei posti là Però io intendo in Italia All'improvviso Tutti Il 20% dei maschi Ok in spiagge Si toglie Il costume E va col cazzo di fuori Cioè io lo trovo Comunque un po' imbarazzante Vedere i miei La mia razza Diciamo razza Non si dice razza Non mi attaccate Perché ho detto razza Dio porco Comunque vedere la mia razza Col cazzo di fuori E' una cosa disagiante Cioè Preferisco che lo mettono Ok E lo stesso vale per il reggiseno Quindi nude Facciamo ste proteste di merda Copriti puttana E sei zitta Però non dico nulla Sul costume Però nel senso Non state comunque il culo Vabbè La mente femminile Ragiona un po' controversa Si contraddicono un po' spesso Vabbè E ora Arriviamo al discorso Della minigonna Quando mi dite Che è un vestito Come gli altri Non me ne frega Un cazzo Non lo è E' stato creato Appositamente Per fare la troia Punto Punto Esteticamente Non è per niente Bella Non è questo dei gusti Fanno schifo Fanno schifo L'unica cosa Bella da minigonna E' che uno Può guardare sotto O comunque Si fa strane idee E' un dato di fatto Va bene Cioè Mi irrita il sistema nervoso Questa cosa E' Vabbè Adesso Adesso ho fatto confusione Perché ho la mente impallata E sono troppo incazzato E quindi non Mi viene in mente le parole Però nel senso Anche lì Vabbè Se sei una troia Fai il cazzo che vuoi Ok Va bene Puoi metterti la minigonna Che Dio santo Probabilmente ti sta sopra la pancia Che è sotto le gambe Non mi interessa Però non puoi pretendere Di essere Cioè Da me Personalmente Non puoi essere preso Come una persona seria Soprattutto se sei fidanzata Perché se sei fidanzato con uno Nel senso Ti metti la minigonna In realtà non dovresti neanche far prima Perché se vuoi comunque Una cosa seria Non è che devi attirare le persone Dalle tue Gambie aperte Insomma Perché lì Sei una troia Non vuoi nulla di serio Ok Ma se sei fidanzato Se sei fidanzato Scusate Un altro motivo in più Per non farlo Perché nel senso Ma lo stesso va anche per i maschi Io non li ho mai indossati Come si chiama Con le robe lattillate Per correre Che dico Sono comode Le articolazioni Non so dove siano comode Mi viene la morte Metterlo Sudo a manetta Io le metto Mi è successo qualche volta Di metterli Per fare magari qualche maratone Ok Ma poi mi mettevo Dei pantaloncini Perché sincero Vedermi il mio pacco Non mi fa neanche piacere Neanche vedere il mio culo E però Ok In questo discorso Che magari io l'ho provato Che sia comodo Magari altri si accomodo Però vanno comunque messi I pantaloncini Va bene Proprio Per dignità Ecco Io parlo per dignità Poi vabbè Ognuno Se ha perso la dignità Cazzi suoi E Anche io l'ho persa La dignità Però su questo punto di vista Ancora no E me la voglio tenere stretta Sta cosa E E purtroppo vedo anche Le donne che Cioè Le donne Adesso non voglio attaccare le donne Ma le donne soprattutto Cioè Magari anche in palestra In altri punti Si mettono quelle robe Lattillate Poi fanno Giustamente Perché non sanno sollevar pesi Cosa fanno? Gli squat Dio porco Fanno gli squat E' ovvio Che poi uno Ti guarda il culo E poi tu fai il video E per sbaglio Quello da Un secondo Di occhiata E poi Vai a far Qui cazzola di video E no Non è giusto A giorno d'oggi Che la gente si comporta così Io mi devo vestire come voglio No No Ci sta a vestirsi come si vuole Ma ripeto Ci sono dei vestiti Che purtroppo Non vogliono Classificarli Perché Sennò Si crea un casino Però Questo genere Di vestiti